Ripartiamo dalla Voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Guardatemi, sto morendo. La bufera mi ulula il De Profundis nel portone e io ululo con lei. È fatta, sono fregato. Un delinquente col berretto sporco, il cuoco della mensa impiegati del Consiglio Centrale dell'Economia Nazionale mi ha rovesciato addosso dell'acqua bollente e mi ha bruciato il fianco sinistro. Che mascalzone, e sì che è anche un proletario. Oh signore, come mi fa male quella maledetta acqua bollente ma pelato fino all'osso. Adesso urlo, ma che mi serve urlare? Che noia gli davo, mica mando sull'astrico il Consiglio dell'Economia Nazionale. Se frugo un po' col muso nella pattumiera, no? Che tirchio, quella carogna. Se vi capita l'occasione, date un po' un'occhiata al suo grugno. È più largo che lungo. Un ladro con la faccia di bronzo. Ah, cari miei, a mezzogiorno quel porco col berretto ma riempito d'acqua bollente e adesso è buio. Saranno pressa poco le quattro del pomeriggio, se si giudica dall'odore di cipolla che viene dalla caserma dei pompieri sulla Precistenca. Come sapete, i pompieri a cena mangiano kesha, una schifezza che è pure peggio dei funghi. Del resto, alcuni cani amici miei raccontano che in via Neglinnaia, al ristorante bar, il menù del giorno comprende funghi con salsa piccante a 3 rubli e 75 copecchi la porzione. Sarà anche un piatto per intenditori, ma per me sarebbe come leccare una galoscia. Il fianco mi fa un male del diavolo e vedo assai chiaramente come finirà la mia carriera. Domani mi verranno le piaghe e io con che cosa le curerò, secondo voi? D'estate uno se ne può andare a soccognichi, lì l'erba è speciale, è davvero buona e a parte questo ci si abbuffa gratis di culi di salame. I cittadini ci buttano un sacco di cartacce così unte e bisunte che uno le può anche leccare. E se non fosse per qualche figlio di buona donna che si sbraca sul prato e al chiaro di luna si mette a cantare Celeste e Aida in maniera da farti torcere le budella, sarebbe niente male. Ma adesso dove si può andare? Vi hanno mai colpito con uno stivale? A me sì. Vi siete mai beccati una mattonata fra le costole? Io di mattonate ne ho rimediate abbastanza. Ho provato di tutto, accetto la mia sorte e se ora piango è soltanto per il dolore fisico e per il freddo, perché il mio spirito non si è ancora spento. È tenace lo spirito di un cane. Il mio povero corpo, invece, questo corpo ammaccato e bastonato, gli uomini lo hanno deriso anche troppo. La fregatura è che l'acqua bollente mi ha bruciato tutto il pelo del fianco sinistro, che adesso è indifeso a fior di pelle. Là! Un nonnulla può farmi venire una bella polmonite e allora, cittadini, quando me la sarò beccata, creperò di fame come un cane. Sapete, quando uno ha la polmonite se ne deve stare spaparacchiato nel sottoscala. E chi ci va nelle pattumiere a cercare il cibo per me? Povero cane malato e scapolo. Se se ne va un polmone, mi toccherà strisciare sul ventre e diventerò così fiacco che un operaio qualsiasi può farmi fuori a bastonate. Così, per finire, verranno gli spazzini con tanto di distintivo. Mi prenderanno per i piedi e mi butteranno sul carro. Gli spazzini, fra tutti i proletari, sono i più vigliacchi. Sono canaglie, feccia dell'umanità. Sono la categoria più bassa. Per i cuochi? Beh, per i cuochi è un altro paio di maniche. Prendi, per esempio, la buonanima di Vlash della via Prescistenka. Ha salvato la vita a un sacco di cani. Quando un cane è malato, quello che conta è mangiare un boccone. I vecchi cani dicono che Vlash ti poteva gettare un osso e magari anche un po' di carne. Gli auguro un bel posto in paradiso. Vlash era un vero uomo. Era un cuoco da signori. Serviva dei conti talstoi. Niente a che fare con quei dannati cuochi del Consiglio dell'Alimentazione Normale. Cosa ci mettono nel cibo quelli lì? Roba che il cervello di un cane non l'arriva a capire. Questi criminali fanno il minestrone di cavolo con carne salata e fetida. E i poveri impiegati non ne sanno niente. Arrivano di gran carriera, si abbuffano e leccano pure i piatti. Una dattilografa di categoria nona guadagna 45 rubli. Le calze di seta, d'accordo, gliele regala l'amante. Ma quanti bocconi amari deve ingoiare per quelle calze? Perché lui mica si contenta di far l'amore in modo normale. Ma che? E fa fare l'amore alla francese, il maiale. Però che mascalzoni questi francesi, detti fra noi. Anche se mangiano come cresi e bevono vino rosso. Comunque, la dattilografa ci sta. E ti credo. Con 45 rubli al mese, al bar non ci si va di certo. Con 45 rubli al mese, non ci scappa neanche il cinema, che per le donne è l'unica consolazione nella vita. La poverina trema, aggrotta la fronte, ma ingoia. Ci pensate? 40 copechi per due portate che messe insieme non ne valgono neanche 15. Gli altri 25 è chiaro, sarei intascati l'economo. E poi, in fin dei conti, credete veramente che lei abbia bisogno di quella roba? Ha qualcosa nell'apice del polmone destro e una malattia femminile di origine francese. E poi le fanno le ritenute sullo stipendio. Alla mensa le ammanniscono cibo avariato. Toh, eccola lì che esce. Corre nel portone con le calze dell'amante, con i piedi freddi e con la pancia mezza scoperta, perché la maglietta di lana che porta è rada come il mio pelo e ci passa il vento. E le mutandine? Le mutandine sono un velo di pizzo, non le tengono affatto caldo. Sono un gingilletto, come piace all'amante. Se facesse tanto di mettersele di flanella, lui comincerebbe a strepitare. Come sei sciatta! Sei anche tu come la mia matriona, con i suoi mutandoni di flanella. Anche tu ti ci metti. Adesso è venuto il mio turno. Sono diventato presidente e tutto quello che rubo voglio spendermelo in donne, code di gamberi e champagne. Quando ero giovane ho fatto la fame, anche troppo. Adesso basta. Tanto la vita ultraterrena non esiste. Mi fa una pena questa ragazza. Ma io mi faccio ancora più pena. Non parlo per egoismo, questo no. Ma effettivamente c'è una bella differenza tra lei e me. Lei perlomeno a casa se ne sta al caldo. E io invece? Dove vado io? E io invece? È un don. E io invece? Perché?